Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati su ATGaming Allora, con questo video dove potete trovare su Minecraft scritto Dota Volevamo soltanto anticiparvi una cosa che succederà il 6 gennaio O non succederà Succederà o non succederà, bisognerà parlare un po' delle contraddizioni Perché ora vorremmo mettere a vostra disposizione O no O no, una copia di Dota 2 gratuita No, no, non è vero, noi non facciamo questo No, non facciamo queste cose Allora, si penserebbe di mettere a disposizione una copia di Dota 2 gratuita Che verrà, anzi non verrà estratta Quindi ripetiamo bene e sottolineiamo Non verrà estratta tra i nostri iscritti Quindi iscrivetevi numerosi perché il 6 gennaio Anzi, non avverrà l'estrazione casuale Non avverrà Non succederà questa cosa E forse il 6 gennaio non avverrà l'estrazione della copia gratuita di Dota 2 Forse 2 copie gratuite O no Si, 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 si vedrà dagli iscritti Non stiamo facendo niente Quindi non centriamo con niente La Befana È la Befana che la porta Io non centravo niente È la Befana che non estrae Non estrae Estrae Forse no Comunque Comunque iscrivetevi numerosi ragazzuoli Che il 6 gennaio forse per qualcuno di voi passerà la Befana con Dota 2 Ora però Ragazzi commentate perché voglio sapere Lì quella che dovrebbe essere una O Vi sembra più una I Quindi è Dita Dita 2 E beh è stata fatta così per questione di spazio È un fake Non prendete questo gioco Io ci ho messo tanto amore per fare una cosa Guarda pure lo stemma di Dota 2 Quanto l'ho fatto Chris Un sacco d'amore ci ho messo Guarda il centrale sembra uno spermatozotto Comunque ragazzuoli Aspettiamo insomma le vostre iscrizioni numerose Un saluto da Comando Wolf e Sensino Ciao ciao ragazzuoli Ciao ragazzi